e siamo magari mando quando dice niente a te non ci capi oggi siamo su fortnite e siamo in compagnia di papà ciao ragazzi oggi faremo un video molto particolare tu vedrai un po il mondo di fortnite e vedrai come gioco come gioco io se sono forte mi dà la tua opinione voglio vedere se giochi va bene secondo me ti stupi io beh direi che ci siamo andiamo in partita vediamo un po fammi vedere pochissimo come gioco scchiatta tutto quanto fammi vedere ragazzi ma c'è un parana poco pulisci il gioco voglio vedere perché mi piace grigo comunque non sai giocare pensavo eri più forte fatto due kill non so giocare voglio avere a te voglio avere guarda dove le grigioni lo faccio io come sia quello pensavo che si vuole più forte delusione? nooo ma non sei qua eh non sei qua ma che ti è in casa? mi piace chi è in casa? eh chi sei qua? che stai facendo? tu dici che sei più forte? no, non è cosa d'oggi ma non lo so, non stai sparando, io non lo capisco, non lo ho sparato, scusa devo spiezzare l'albero, come mi spiezzare l'albero? piccario, no, non lo so, non lo so come mi sto imparando con te? non lo puoi cambiare, dai 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 loco, ma non sai cosa? perchè non sai qua, perchè se hai l'euro sei molto stessi e non vuoi dire ma devo lo fare scusa per ammazzare le persone non sai giocare posso giocare pochi? ti faccio vedere poco la lezione che ne pensi? ma cosa vuoi fare? non sai di più forte se mi lasci il gioco ti faccio vedere ma che fai? io a giocare da te? non sai qua vabbè non sai giocare, lo dico in italiano dai se stai facendo qua c'è un ballerino no, non è cosa tu, ma la mac, che c'ha già fatto? non sei qua boh, ma si scemo? si scemi? ma dov'è? non lo so e boh, ma papà su me non hai capito il gioco non hai capito il gioco non posso sparare agli alberi, cazzo perchè da gt vuoi sparare agli alberi? se la l ricostro e finisco i colpi, no scusa, ma quando ha colpo del su? eh non vedi sta scritto 73, 29, ah non lo so qua sotto Cristiano è cosa dolce? ma poi ci siamo in mare, poi ci siamo in tuo mare ma che non ha oro, non ci sta qual oro, papà? che l'uomo è tutto oro là? come si chiama? cosa? al di fuori della montagna, stai sulla montagna, quando ho preso il gioco ho preso il gioco, ho preso il gioco e tu sei sempre lo stesso sto camminando ti offendi se ti dico una cosa? dici non sai giocare non ti offendo non mi offendo, non mi fai ridere, cioè mai non lo so, eh? ho fatto per il nuovo nuovo, non sai giocare, eh? non sai giocare boh volevo imparare qualcosa da te, ma... sei una mozzarellina stai correndo si boh, vai giù volevo imparare qualcosa da chissi e come ha visto a chissi? non ho visto, non ho visto ma tu per esempio che già lo sai questo qua è sempre uguale no, è uguale cambiano sei una cosa tu ciao, chi sei? non sei giocato si, puoi? ma che spada? tu sei qua? ma che spada? guarda che stai con me, ho un cazzo pari, stai anche lei con me ma hai chiuso a tutti gli amici pazzerà, pazzerà la piccola lezione ma quella lezione papà ah guarda la lezione, stai io diventerò più forte di te certo te lo dico io ma vai a andare a domare non sono io ah, non sei tu no ma vai ma vai però non sceglie sempre la stessa la roccia, mare o fiume ma che stai amare? mi piace tu? che stai amare? hai raggiunto prima che stai amare? non sei qua non sei giocare è l'unico che ti offende è l'unico che ti offende oi, stai amare ad andare a fare non parli non parli spari ok, l'ha fatto lì ma che è? sei piangendo? no, guarda che è piangendo e vabbè, ti stai offendendo vabbè, sei impazzito che sei qua non ci capito guarda te chiusi, se non l'hanno fatto prima l'altra cosa non l'abbiamo fatto prima di nuovo eh, papà, vabbè, come c'è la partita? ma siamo stessi, ma? eh, devo atterrare, scusa ah, atterramente siamo stessi eh, vabbè, normale eh, allora, vabbè, indagliare il bellocco stai nel pomarollo stai nel pomarollo stai nel pomarollo ma è cosa dolissima vai su l'utano stai inguaiato non cazzo ma lo faccio guardare poco a me trovo una lezione ti do una lezione tu sei sempre del pomarollo cazzo avrei sto l'utano, no l'utano l'utano l'utam non ti offendere papà, ma se tu non capisci la tecnica del gioco non capisci niente del gioco guarda, guarda solo, no vabbè, come si era, niente sapevo di qua, meglio di te ecco tu, non puoi provare l'armato ma no fatti guarda poco cazzo avrei che hai spiegato a fare con me ma stanno cazzo avrei ma è la GCC oh non sei qua non sei qua facciamo di più Enzo vieni qua prima che non facciamo ma Enzo ma basta ma basta ma che basta non sei qua non sei qua ma questo cazzo ma lo togliamo non è proprio ma che ce ne ci si farò ma io mi chiedi ma è mi chiedi ma è ma è non ci fai ma è ma è che cosa è qua permetti x magari mando ponte di città niente a te non ci capisci come se va aca sono mai per dice non sapi cosa c'erano tutti subito è a pochi gagne ma guardare compi qua non lo so ma comunque è finito no quando stai se non vengo più volevo imparare poco ma non sovi qua non sa giocare un po subito si offende subito io ho fatto un pochino vieni un attimo qua c'è il bo ci faccio è uno scherzo eeeh ma c'hai creduto basta Basta, appena ci sono il rumore alla sedia ci ti è accaduto così per fatto. Ma si fa tra la mia paura che è fatta così. Non capito. Ragazzi, ci abbiamo fatto uno scherzo. Non so se è riuscito bene, perché Cristiano è fatto una bella parte. Enzo non lo sapeva, ha detto, ma noi vediamo se... Cristiano, facciamo questo video, vediamo se ci riusciamo. Penso che... F*** di p***a. Sei stato bello però, eh? No, ma all'appena ho sentito il rumore della sedia, mi sono cagato solo. Ma che lei ci ha battuto la sedia, non avevi visto? Mi sono cagato solo. E poi ci ho fatto fin di ceropaccare. Mi soccano. Mi è fatto proprio pure a me però. Vabbè, l'importanza, se vi è piaciuto... Eh, devo fare un scherzo, Enzo. Ciao ragazzi. Vabbè, ma te la fai l'ultima partita però. Sì. 24. 24. 24, io torno. Vabbè ragazzi, il video può finire qua. Se lo scherzo vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale. Da me, da papà, da Fortnite e da questo grandissimo scherzo è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie.